Per carità non si può essere simpatici a tutti e a dire la verità io non è che faccia qualcosa per riuscire simpatico, io mi metto semplicemente davanti alla telecamera e dico esattamente quello che penso e se qualcuno non è d'accordo, d'accordo, dibattiamone, ma io però ci metto la faccia in quello che dico e dico a quelli che mi mandano delle email talvolta non molto carine e che non le firmano neanche e non si evince neanche dal loro indirizzo di email un nome ed un cognome non ci mettono neanche il loro nome, io ci metto la faccia, io agisco lealmente e gli altri che mi criticano?